Ti è mai capitato di avere una sex worker in terapia? Allora, ho avuto persone che hanno, diciamo, scelto di fare questo lavoro come secondo lavoro. Ok. Quindi non come condizione principale e come scelta, quindi non qualcuno che si è trovato costretto chiaramente. Sì, mi è capitato e bisogna lavorarci con attenzione perché intanto si può strutturare una dipendenza all'inverso. C'è nel senso, io provo talmente piacere a mostrare il mio corpo, a mostrare determinate immagini in un certo modo, che non riesco a smettere. Cosa fate nella vita? Che content creator? E chi ce l'ha più piccolo? Chi ce l'ha più lui? Sì. Per me è importante sb****are, mentre c'è un grande piccolo mi interessa. Si chiama The Crazy. Sesto con un fan. Cioè non facciamo, vi prego, quelle che no. E Maria, io e... Ciao a tutti e benvenuti al Nablu Podcast. Nablu Podcast è un podcast offerto da Nablu.com, che è una piattaforma un po' piccantina per creator, per adulti e non solo. Ma oggi siamo qui con un ospite speciale che ha a che fare col mondo dell'adult, ma in modo molto molto particolare. Siamo qui con Eleonora Stellitto. Ciao. Allora, io ho avuto modo di sbirciare tutti i profili di Eleonora e, oltre che ad avere dei numeri impressionanti, in particolare su YouTube, io sono rimasta sconvolta da questo. Ma voglio sapere direttamente da lei chi è Eleonora Stellitto. Io sono una psicologa, psicoterapeuta e sessuologa, donna e una mamma di una bambina di quasi dieci anni e mi occupo principalmente di psicologia e sessualità, nello studio privato. Poi per il resto del tempo io sono una content creator, ormai posso definirmi così, creo contenuti sui miei canali social e dicono che sono una youtuber. Esatto, sì sì sì, assolutamente, stra youtuber, tra l'altro ho visto sui tuoi canali che hai ricevuto il silver button. Sì. Una di quelle cose che io un po' asfiro, un po' ti invidio, devo dire la verità, ti ammiro ma un po' pure ti invidio. Bene, bene. Perché comunque per una tipologia di argomenti del genere, per un canale così di nicchia non è così facile, soprattutto perché secondo me c'è anche tanti risvolti negativi nel parlare in generale di sessualità sul web. Sì, non è stato facile. Esatto. Non è stato facile, non lo è. L'approccio di Eleonora appunto ai social è quello di informare appunto le persone su tutti i campi della sessualità. E io sono qui appunto per riempirti di domande su tutto quello che conosci, oppure su quello che non conosci, su quello che non pensavi di conoscere. Ok. Hai scritto un libro? Sì, ho scritto un libro, Quando il sesso non è un piacere, dove parlo appunto di disfunzioni sessuali maschili e femminili e ci sono degli esercizi all'interno del libro pratici per aiutare le persone che lo leggono appunto a risolvere le proprie disfunzioni. Quindi, cioè, già il consiglio pratico sul sesso io vado nel panico, cioè già pensare a una disfunzione e che ci siano poi dei trucchi pratici per risolvere lo spesso sembra sempre tutto collegato troppo alla psicologia. Invece a volte il consiglio pratico aiuta, ma ne parleremo durante il corso del podcast. E appunto Nablu è una piattaforma piccantina, che è popolata da sex worker, proprio sex worker disseminati ovunque, non solo, ma principalmente. Quindi, con te oggi volevo affrontare tutti quei temi che secondo me affliggono, tra virgolette, la psicologia, ma non solo, anche tutto quello che riguarda la sessuologia, delle sex worker, ma anche degli utenti. Che popolano il web, in ogni suo aspetto. Quindi, però prima di affrontare tutti questi argomenti ti chiedo, cosa sognavi di fare da piccola? Perché comunque arrivare a fare video dove parli di sesso online, diciamo che forse non è proprio la prima cosa che uno si aspetta di fare quando è piccolo. Quindi cosa volevi fare da piccola e ti aspettavi di avere tutto questo successo? Allora, io ti direi cosa volevo fare da grande. Sì, giusto, scusami. Sì, da grande perché in realtà, allora, la mia idea era comunque di fare un lavoro in cui avrei aiutato le persone. Questa era la mia idea generale. E ci sono arrivata fortunatamente e non mi aspettavo di fare questo tipo di lavoro. È qualcosa che si è sviluppata negli anni. Perché in realtà io parto come psicologa, quindi ho fatto tutti gli studi legati alla psicologia e alla psicoterapia. Poi un mio percorso personale di psicoterapia, quindi un lavoro personale di terapia su me stessa, mi ha portato a comprendere l'importanza della sessualità e come questa è collegata all'identità di ciascuno di noi. Quindi, grazie a questo percorso che ho fatto, ho poi scelto di specializzarmi nella sessualità. Ok. È un argomento tanto delicato. Forse è più delicata la psicologia in generale o la sessualità, secondo te? Allora, in realtà vanno insieme, sono strettamente connessi. La testa influenza moltissimo la nostra sessualità e anche la nostra identità. Però ormai è diventato più semplice parlare di aspetti psicologici, molto più difficile parlare di aspetti sessuali. Quindi c'è una differenza nel modo in cui ci si sta a contatto e se ne parla. In cui vanno trattati, sicuramente. Ma quindi, a livello pratico, che cosa fa un sessuologo? Allora, il sessuologo o la sessuologa è un professionista che ha studiato medicina o psicologia e aiuta le persone che vengono in studio a lavorare su difficoltà sessuali, che possono essere o individuali o di coppia. Tendenzialmente il sessuologo si differenzia dall'andrologo, dall'orologo, perché non somministra farmaci, non fa visite mediche specifiche, ma lavora sull'aspetto appunto psicologico. Quindi come la psiche influenza la sessualità, come la mente determina le problematiche legate alla sessualità, che possono essere appunto individuali o in coppia. Perché tendenzialmente poi succede questo quando una coppia viene inseduta da me, entrambi portano due tipi di disfunzioni sessuali diverse che si sono matchate insieme. E quindi bisogna lavorare anche a livello di coppia su risolvere ciascuno la propria difficoltà sessuale. Come si fa a lavorare su una coppia, su un argomento che appunto magari riguarda solo uno dei due o li riguarda entrambi ma in modo diverso? Cioè non deve essere facile lavorare? No, è abbastanza complicato. Esatto. Però è molto interessante vedere come due persone che si mettono insieme, si sono scelte per determinati motivi e si scelgono anche per le difficoltà sessuali. Tendenzialmente arriva la coppia in cui lei soffre di vaginismo e lui soffre di eiaculazione precoce. Quindi sono difficoltà che insieme creano un boom tremendo. E quindi bisogna lavorare con ciascuno dei due individualmente e poi in coppia con tutte e due dando appunto degli esercizi e delle attività pratiche perché poi comunque il sessuologo ha questa possibilità di dare dei compiti. Un po' compiti a casa. Sì esatto, compiti a casa che la coppia svolgerà o in seduta come davanti oppure a casa ciascuno per conto proprio insieme e poi torneranno in seduta e vedremo che cosa è stato svolto svolto e com'è andata. Questi compiti piano piano danno la possibilità alla coppia di superare le difficoltà. Interessante, il compito a casa mi piace, mi piacerebbe avere dei compiti a casa da fare, magari non per risolverli, così, un po' a gratis. Ci sono esercizi che si possono fare, eh? Così? Tipo? Adesso li voglio sapere. Beh, il più famoso è l'esercizio di Kegel. Ok. Per il maschile e femminile che aiuta e ci permette di allenare il pavimento pelvico. Sì. Che è fondamentale per raggiungere il piacere. Se non abbiamo un pavimento pelvico allenato, noi raggiungiamo il piacere. E quindi la possibilità di trattenere, diciamo, con delle contrazioni muscolare e pelviche, è come se noi volessimo urinare, in realtà tratteniamo e non facciamo, non terminiamo appunto l'urina. Queste contrazioni possiamo farle più volte durante appunto un momento. Circa 10-15 contrazioni possono essere fatte in ogni sessione di allenamento e questo ci permetterà di rinforzare il pavimento pelvico e quindi di provare più piacere. Listo? Abbiamo, possiamo fare tutti, possiamo fare degli esercizi a casa. E allora non ci stiamo masturbando a gratis, non stiamo facendo cose strane. Stiamo facendo gli esercizi, è già dato la sessuologa. Esatto. Non stiamo facendo niente di male, abbiamo dei momenti che ci prendiamo per noi e ci esercitiamo. Posso considerare la palestra? Assolutamente, sì, è come fare degli squat. Quindi, no palestra, ma sì esercizi di Hegel, ragazzi. Importantissimi. Quindi appunto da piccola sognavi di aiutare gli altri, oggi lo fai, oggi è meglio di te, credo, nessuno. Ti aspettavi di raggiungere tutto questo successo? Allora no, no. Soprattutto sui social? No, io sono partita, in realtà era una scommessa, partita in pandemia fondamentalmente. Ah, è recente comunque. Sì, è recente e l'idea era, ok, offro un servizio alle persone che da casa non possono muoversi, non possono fare terapia e quindi hanno magari bisogno di qualche suggerimento e l'idea è stata questa, provo con dei video, però non mi aspettavo di arrivare a questo punto. Poi piano piano lavorandoci sopra, chiaramente le cose si sono strutturate in una forma diversa, quindi poi dietro c'è stato un lavoro di marketing, insomma di obiettivi un po' più specifici. Però all'inizio ero ignara di arrivare a questo punto. Soprattutto perché secondo me il sesso, ora non voglio dire soprattutto in Italia, fare sempre il solito discorso, però secondo me il sesso è ancora tanto un tabù. E arrivare a associare una figura professionale al sesso, insomma lo trovo difficile, complicato. Tu ci sei riuscita, quindi complimenti, ma è vero che effettivamente c'è ancora così tanto stigma nel parlare di sesso? Eh, assolutamente sì, il problema principale e credo che sia anche poi il motivo per cui i miei canali diciamo hanno funzionato è proprio questo, che non se ne parla in maniera aperta e diretta e che essendo un tabù tutti ci vergogniamo nel parlarne. Quindi il fatto che invece io abbia avuto appunto la voglia anche di parlarne apertamente, credo che da una parte abbia funzionato, no? Perché ha fatto sentire le altre persone autorizzate poi piano piano a parlarne o andare a capire che cosa c'era che stavano migliorare, che potevano migliorare o che non funzionava nel loro rapporto o individualmente. Quindi credo di aver dato un po' una sorta di autorizzazione. Sì, sì, dici un pass. Esatto. Hai dato il pass per parlare di sesso con, ecco, magari con la compagna o col compagno, eccetera eccetera, questa è una cosa molto, molto bella. Ho visto dei tuoi video molto, molto virali e poi ho cercato proprio più virali perché io sono così, cerco sempre il cavillo, la cosa più cercata e la cosa più cercata dei tuoi video, quindi i video più visti sono uno che riguarda il sesso anale, sulla prima volta, quindi ora voglio sapere quali consigli hai dato per questa esperienza e tre modi per stimolare il pene. Che sembra una cosa vaga, sembra una cosa magari anche stupidina, ma in realtà quando ho visto il video ho detto, cavolo, non mi aspettavo se potessi essere, cioè, così specifici, così, dare così tante indicazioni riguardo a questa cosa qui. Quindi partiamo dal primo, sesso anale, prima volta. Quali consigli dai per fare sesso anale la prima volta? Quindi una sessuologa che dà un consiglio così autorevole, ecco, riguardo a questo. Cosa consigli? Allora, la prima cosa che consiglio è intanto di lavorare sul tabù rispetto al sesso anale, perché chiaramente nelle fantasie sessuali di molti di noi il sesso anale è presente, però nell'attualizzazione c'è una difficoltà nel farlo e anche nel proporlo, quindi la questione è sicuramente innanzitutto lavorare sul tabù che gira intorno al sesso anale. Ok, perché è così un tabù il sesso anale? È così un tabù per, diciamo, alcuni motivi principali. Il primo è fisiologico, ovvero l'anno non è deputato all'introduzione ma all'espulsione e quindi di conseguenza si pensa e si immagina che non sia atto per la penetrazione, no? Quindi in realtà quello che si fa pensare è che fisiologicamente sia qualcosa contro natura, quindi quando noi immaginiamo che c'è qualcosa contro natura, la prima cosa che facciamo la eliminiamo dalla nostra testa. Poi a livello di immaginario e di fantasia invece continuiamo a costruirci sopra, quindi ci creiamo anche sopra delle idee che non sono peritiere, però a livello proprio di attuazione lo eliminiamo, lo eliminiamo e invece in realtà per chi appunto ha piacere di provarlo, di conoscere questa esperienza, è un'esperienza molto piacevole sia per il maschile che per il femminile. E credo che una cosa che abbia un po' anche sconvolto in un certo senso è il fatto che ne ho parlato anche dal punto di vista del piacere maschile, perché non è semplice questo. Esatto, cioè generalmente si pensa che debba essere per forza piacevole, insomma il tabù nasce secondo me anche dal fatto che sembra, soprattutto dalla pornografia, sempre piacevole, sempre apprezzato da entrambe le parti. Cosa lo rende più o meno piacevole della penetrazione invece vaginale? Allora, l'ano ha comunque un ingresso più stretto, nel senso che essendo non deputato appunto alla penetrazione, la muscolatura dell'ano è una muscolatura più ristretta, quindi questo che cosa fa? Fa sì che chiaramente per chi attua la penetrazione, diciamo il pene venga più stretto e quindi in qualche modo senta maggiormente al livello di sensibilità. Per invece chi la riceve è una zona erogena, cioè ci sono tantissime terminazioni nervose nell'ano, quindi tantissime zone che se stimolate provocano piacere sia a livello prostatico che a livello vaginale. Quindi siccome è strettamente collegato ai nostri genitali, l'ano va a stimolare un doppio tipo di piacere, sia anale che vaginale. Quindi per questo è molto piacevole. Soprattutto negli uomini c'è questa cosa molto, diciamo, virale sull'internet che per gli uomini, poi appunto mi confermerai o no se questa cosa è vera, ma per gli uomini è molto piacevole il sesso anale, diciamo, ricevuto in modo passivo. Sì, perché si va a stimolare la prostata e la prostata è l'elemento che ci permette, che permette all'uomo di spingere la stimolazione e quindi anche l'erezione e poi l'espulsione dello sperma. Quindi se è stimolata la prostata, che va tenuta in allenamento, diciamolo, anche questa, permette al maschile di sentire un doppio piacere. Quindi sia quello della penetrazione che viene ricevuta, sia dell'erezione e dell'espulsione dello sperma. Quindi è per questo che è molto piacevole. E ci sono gli esercizi per la prostata, quindi ci sono? Ci sono gli esercizi per la prostata, sono sempre esercizi di Kegel. Ok, sempre il solito. E possiamo fare anche delle contrazioni anali che ci permettono, appunto, sempre di mantenere la zona allenata. Ok. Ecco, anche per la preparazione, secondo me, serve qualche consiglio. Cosa consiglieresti? Allora, poi quello che in realtà c'è nel video è sicuramente lavorare innanzitutto sulla pulizia intestinale, perché appunto come immaginario c'è questa idea che essendoci una penetrazione nell'ano ci potrebbe essere un'espulsione di feci. Quindi quello che si fa è fare una pompetta, vengono chiamate così, anali che servono appunto per pulire. Non vanno fatte con grande frequenza, questo bisogna dirlo, perché se no andiamo appunto a lavorare troppo a livello intestinale, quindi non produciamo poi l'effetto voluto, ma andiamo all'effetto opposto, cioè ovvero che l'evacuazione poi non viene più controllata. Ok. E quindi vanno fatte solo quando sappiamo che avremo un rapporto anale, mezz'ora prima del rapporto. Ok. Quindi questo va assolutamente fatto, e lavorare tantissimo con il lubrificante, perché chiaramente l'anno non essendo come la vagina che si autolubrifica, bisogna utilizzare dei lubrificanti che ci permettono sia di sentire meno dolore, sia di aiutare la penetrazione. Questi sono dei suggerimenti. Per la dilatazione invece? Per la dilatazione ci sono dei dildo anali, che vengono utilizzati, hanno varie dimensioni e varie forme. Tendenzialmente il dildo anal è più utilizzato dal femminile che dal maschile, però appunto si aiutano alla dilatazione e quindi a sentire meno dolore. Sul sassanale ricordiamoci sempre, è una cosa importante che bisogna farlo col preservativo e non bisogna mai fare un passaggio dall'anno alla vagina, perché chiaramente l'anno, anche pur avendo fatto pulizia, porta con sé virus e batteri e quindi rischiamo di andare a fare un'infezione a livello vaginale se facciamo questo passaggio. Quindi è sempre molto importante, dopo un rapporto anale, effettuare una buona igiene. C'è addirittura sull'internet, perché la pornografia ha portato un po' a questo tabù, anzi ha sdoganato in modo forse eccessivo, il tabù dell'anale. C'è questo kink, che appunto è l'ass to mouth, quindi sedere bocca, che secondo te è legato più a un discorso di piacere generico o trasgressione in generale, o anche a un discorso secondo te di mancata igiene prediletta, non lo so. Allora, questo dipende molto, ci sono persone che chiaramente hanno desiderio di entrare in contatto con zone che non sono igieniche. Ok, ecco, questo volevo. Sì, diciamo che c'è un po' questa tendenza, ma in quel caso parliamo di feticismo o perversione specifica. Quando invece parliamo della possibilità di utilizzare appunto la lingua sull'ano e quindi di fare una stimolazione di questo tipo, è sicuramente una stimolazione piacevole per chi la riceve e riporta a livello psicologico a quello che viene riportato generalmente sempre al sessonale, cioè un rapporto di dominanza sotto missione. Ok. Nel senso che chi tendenzialmente nell'immaginario riceve la penetrazione, sta in una posizione più sottomessa rispetto a chi la agisce. È un'idea, dobbiamo un po' sdoganarla questa idea, però c'è questo passaggio per cui anche nel caso avverso, cioè nel senso quando si passa la lingua, chi passa la lingua è in una fase di sottomissione rispetto a chi riceve. Quindi c'è questa alternanza di posizioni a livello psicologico che appunto a livello mentale va a stimolare un certo tipo di piacere. Cosa fa provare piacere nello zozzo, diciamo, se vogliamo continuare a analizzare questo tipo di kink? Qual è la cosa che appunto spinge ad avere questo tipo di piacere? Allora, tendenzialmente sono persone che da bambini sono stati molto controllati, molto limitati. Quindi il contrario? Sì, persone a cui è stato detto di non mettere le mani in bocca, di non toccare roba sporca, di non prendere cose e passarle da una bocca all'altra, perché comunque hanno ricevuto come regola il controllo e quindi il non sporcarsi. Siccome le nostre fantasie sessuali funzionano anche per andare avverso alle regole che ci vengono messe, una sorta di contrappasso, esatto, ho piacere nel sentire che c'è lo sporco, quindi mi posso finalmente autorizzare a fare qualcosa che invece da piccolo mi è stata vietata. Ok, quindi spinta al limite, quindi esattamente tipo contrappasso, spinta al limite il piacere appunto magari nelle feci proprio o tutto quello che... Che non è tanto nell'oggetto in sé, è un po' come in tutti i felicismi, è più nell'aspetto psicologico che nasconde, che crea il piacere. Quindi tutto quello che è psicologicamente collegato e rimanda a magari una cosa dell'infanzia. Sì, sensazioni antiche, sì. Che è una cosa che se ci mettiamo adesso ad analizzare probabilmente finiamo domani mattina in realtà. Tornando un po' indietro, quindi analmente riusciamo a stimolare col pene appunto sia in modo passivo che in modo attivo, ma il pene, tornando al secondo tuo video più virale, come si stimola in modo giusto? Allora, questo video ha funzionato perché in realtà molti uomini, ma era rivolto anche alle donne, nella interazione del piacere chiaramente, strutturano un certo livello di masturbazione che a volte diventa anche spiacevole, perché si fa in maniera molto intensa o comunque in un modo che per la persona può sembrare naturale, che spesso è lo strusciamento, ma non è proprio funzionale per raggiungere il piacere. Quindi fondamentalmente l'idea era di educare, informare rispetto a come poter stimolare il pene senza crearsi dolori o senza crearsi fratture, per esempio, perché ci sono persone che con la masturbazione possono fratturare il pene, senza rendersene conto, si creano delle micro fratture. Tramite la masturbazione? Sì. Come succede? Perché hanno un'intensità talmente elevata, una stretta talmente forte, che i corpi spugnosi che sono all'interno del pene esplodono, quindi il pene non ha un osso all'interno ma ha corpi spugnosi che possono a forza di essere stimolati esplodere e quindi si può rompere il pene, si può fratturare. Oddio, la parola pene, esplosione, frattura tutto insieme, mi hai destabilizzato, ammetto che non è proprio destabilizzato, cioè ok. Ok, proviamo a dimenticarci di questo, tenendone sempre di conto a livello sessuologicamente parlando. Sì. Quindi il tuo scopo era quello di educare il corretto utilizzo del pene. Esatto, sì, perché poi succede che in seduta magari mi arrivano persone che mi dicono ma io durante la masturbazione sto bene, provo piacere, poi se con la partner o il partner vengo masturbato provo dolore, quindi c'è una differenza rispetto a quando lo faccio da solo o quando me lo faccio fare. Perché? Perché chiaramente ognuno di noi ha il suo modo di provare piacere e masturbarsi e se io non ho la voglia o la capacità o supero la vergogna di parlarne con qualcuno, rischio che l'altra persona lo faccia nel modo in cui pensa che sia più idoneo farlo. Esatto. Ma non è detto che sia al mio modo. E quindi il video dava tre indicazioni principali per poter far sì che appunto si possa arrivare a provare piacere sia appunto con la masturbazione sia in coppia e senza dimenticarsi comunque di alcune zone perché è chiaro che c'è chi magari è più sensibile sulla parte del glande, che è più sensibile sulla parte dei testicoli, quindi anche capire il proprio funzionamento a livello corporeo personale è molto importante per dare indicazioni quando siamo in coppia. Quindi il consiglio generale che daresti per questo cos'è? Intanto conoscersi e quindi fare masturbazione, ma rendersi conto se durante la masturbazione ci sono parti più sensibili, parti meno, se sentiamo dolore, se un determinato movimento è più faticoso o, che ne so, funzioniamo meglio con una mano piuttosto che con un'altra, una posizione con un'altra. Quindi proprio conoscere il proprio corpo è fondamentale. E poi comunicare alla persona con cui abbiamo un rapporto cosa ci piace, ma questo sin dall'inizio, cioè nel senso anche se ci troviamo in un rapporto occasionale, quello che dobbiamo fare è dire cosa ci piace. Che non è scontato, non è per niente scontato. Il fatto che lo siamo qui a ripetere tipo mille, mila volte il secondo, forse dovrebbe dare qualche indicazione, soprattutto ai maschietti all'ascolto, vero? Concordo, sì. Un altro video che invece mi riguarda un po' quasi personalmente sono i benefici della pornografia nella coppia. Generalmente si parla di pornografia, ma quando si parla di pornografia si parla di tabù, si parla di una cosa che devi guardare in camera tua, nascosto, sotto le coperte e la porta deve essere chiusa a chiave. Quindi parlare di pornografia in una coppia, soprattutto dei benefici che questa... se una coppia è... non voglio dire rivoluzionario, ma particolare, quantomeno sì. Esistono e quali sono? Sì, esistono. E anche qui, diciamo, la partenza per cui ho creato il video è stato proprio perché invece molte persone non vedono video porn in coppia. Cioè, c'è proprio un tabù rispetto a questo. E quindi invece l'idea è proprio di portare la coppia a vivere insieme questa esperienza. E sulla pornografia ci sono tantissime ricerche chi è pro, chi è contro. Ancora non si è delineato definitivamente l'idea. Quindi è una cosa anche molto soggettiva. Però in coppia sicuramente aiuta la coppia intanto a parlare di quello che si vorrebbe fare. Quindi intanto parte una comunicazione. Poi vedendo un film porno insieme chiaramente io posso dire alla mia partner, al mio partner, guarda, io generalmente guardo queste immagini, queste cose mi piacciono o nelle mie fantasie io vorrei fare questo. E quindi ci conosciamo. Magari su argomenti di cui non avremmo mai parlato. E poi vedere insieme un film porno chiaramente stimola l'eccitazione reciproca. e di conseguenza ci si unisce, si ha voglia di fare l'amore, perché poi il sesso funziona un po' così. Su certi aspetti più lo si fa, più si ha voglia di farlo. Vero. E quindi è un'idea per poter condividere un momento, anche un momento trasgressivo, e poter portare quello che vediamo nel film porno nella realtà, sapendo che chiaramente il film porno è un film, quindi è girato in un certo modo, è strutturato in un certo modo, non potremo realizzare proprio quello nella realtà, però possiamo dare spazio alle nostre fantasie. E se diamo spazio alle nostre fantasie, il sesso non è limitato, siamo liberi, e quindi spariscono i tabù, e spariscono le regole troppo strette, e sparisce la rigidità. Da sex worker che produce porno, ti posso dire che mi fa strano parlare di pornografia come tabù, perché è una di quelle cose di cui, nonostante sono donna, faccio uso quotidiano, come appunto spettatrice, producendole non ci vedo proprio il tabù, e spesso appunto avendo a che fare con altre colleghe che fanno più o meno la stessa cosa, non viene quasi da parlarne come un tabù, anzi. Però in realtà lo è. Qualcuno sui social spesso mi attacca, in prima persona, dicendo, ah, tu produci qualcosa che fa male, cioè la pornografia fa male, è il male del mondo, siete delle bestie di satana. È vero quindi che il porno fa male che noi siamo delle bestie di satana? No, non è vero. Grazie tanto. Allora, come dicevo prima, ci sono varie ricerche ancora sul campo, quindi non c'è una definizione precisa, però quello che mi sento assolutamente di dire è, allora, il porno nasce principalmente come funzione individuale, quindi io guardo un porno perché ho voglia di provare piacere e di masturbarmi, a meno che poi non lo faccio in coppia, ma un altro discorso. e quindi ha questa funzione di stimolare la masturbazione, perché appunto viene vista come una bestia di satana chi fa questo lavoro? Chiaramente perché vai a stimolare la masturbazione, che è un tabù antichissimo, cioè nel senso che... Ok, spiegami questa cosa. Nell'antichità no, per dirti per i greci era la masturbazione, era qualcosa di fondamentale, gli sportivi dovevano farla prima di ogni gara perché gli dava prestanza e virilità. Ok. Poi nel tempo, diciamo dal XVIII secolo in poi, è diventato un tabù perché è uscito un libro che si chiama Onania, in cui si parlava appunto della masturbazione come elemento peccaminoso. Ok. Quindi come ciò che non va fatto, ciò che è del sistema immunitario e quindi andavano, venivano riportati degli elementi medici a sfavore della masturbazione. Che erano corretti? Per quel tempo, per le ricerche che c'erano a quel tempo, sì. Unito al cattolicesimo è diventato il porno, comunque la masturbazione è diventato un tabù. Quindi da lì poi sono partite varie ricerche rispetto alla masturbazione e quello che è collegato alla pornografia in maniera, diciamo, negativa, se vogliamo metterla così, è la masturbazione compulsiva. Ok. Cioè, davanti al porno io ho la possibilità di masturbarmi tutte le volte che voglio. Ok? Perché ne posso fruire facilmente. Quindi il rischio è che si possa arrivare alla masturbazione compulsiva e quindi è questo che in realtà a livello medico, scientifico può essere negativo e anche il fatto che i ragazzi più giovani utilizzano il porno come elemento educativo, cioè nel senso come processo di educazione. In realtà il porno non può essere un processo di educazione, è più un modo per appunto arrivare all'eccitazione, quindi per masturbarsi, ma non deve passare come mezzo di informazione. quindi va fatta questa distinzione qui. C'è un bel progetto da parte delle sex worker, soprattutto di quelle che lavorano sui profili appunto chiusi, purtroppo, nel senso a pagamento, però è un progetto che è nato un po' in modo spontaneo, ma quello di riportare la pornografia è quello che era prima, tra virgolette, quindi è una cosa magari un pochino più intima, a differenza appunto delle produzioni, che generalmente c'è il sesto estremamente violento, dove la trama è sempre la solita e non c'è mai una componente magari di amore in questa cosa qui, e spesso invece per quanto riguarda i canali diciamo a pagamento, ma non solo, si cerca sempre di più di riportare questa quotidianità nel porno, perché appunto crediamo che sia una cosa anche a livello educativo, visto che purtroppo è stato spostato da questa parte la parte dell'educazione, la lancetta si è spostata verso di noi, che ci siamo ritrovati in una situazione un po' scomoda, però di per quanto possiamo cercare di aggiustare questo trend sbagliato. Sì, in realtà diciamo l'obiettivo potrebbe essere proprio questo, no? Far passare intanto un messaggio di una pornografia anche un po' diversa rispetto alla pornografia violenta in un certo modo, ma dare piano piano delle informazioni a chi come giovanissimi ne fruiscono, ma ne fruiscono senza avere le competenze, senza avere l'informazione e il confronto con gli adulti o comunque gli educatori di riferimento e il problema è che chiaramente si immagina che quello che vedo nel porno poi succede nella realtà, quindi se io faccio quelle cose alla mia partner è sicuro che lei proverà a piacere è sicuro che arriveremo al piacere entrambi e invece non è affatto vero quindi bisogna fare il primo lavoro di educazione e informazione e poi appunto per chi lo desidera fruire del porno come mezzo per arrivare al piacere individuale o di coppia. Infatti diciamo che è una cosa su cui mi piace premere anche su quello che sono i miei video è il mio tipo di visione di questa cosa e quando però appunto si fa troppo uso di pornografia purtroppo si casca nella dipendenza che come tante altre quella che può essere da alcol o gioco d'azzardo sono pericolose tu hai mai affrontato un caso di dipendenza da pornografia? Sì me ne stanno capitando diversi negli ultimi anni ecco questa cosa è qualcosa che sta andando in aumento stanno aumentando i casi di dipendenza da pornografia proprio per questo processo un po' che dicevamo prima cioè nel senso la mancanza di informazione un po' perché ormai la nostra interazione è principalmente dietro a un computer o comunque dietro a un cellulare da casa è veloce è facilmente fruibile è facilmente reperibile quindi non mi devo sforzare e perciò ce l'ho lì a disposizione avendo chiaramente il porno o le chat online erotiche a disposizione posso facilmente soddisfare il mio bisogno il problema qual è? che nella dipendenza da pornografia piano piano la persona si dissocia completamente dalla realtà quindi inizia a fruire di porno in qualsiasi contesto quindi se si trova in ambito lavorativo se a cena con amici non riconosce più la differenza tra uno spazio suo dove poter fare masturbazione e uno spazio comune dove certi gesti non possono essere fatti per esempio quindi in realtà non si crea più questa differenza e poi non importa più perché lo sto facendo cioè l'obiettivo non è provare desiderio e piacere ma questo obiettivo viene bypassato ed è semplicemente il soddisfo il bisogno quindi non sento più neanche il piacere una volta che ho effettuato la masturbazione ho visto più il porno anzi vado nella direzione opposta comincio a sentire dolore comincio a sentire che la masturbazione non mi dà più piacere il rapporto di coppia non mi dà più piacere e quindi tendenzialmente le persone arrivano in terapia in questa fase ok quindi già quando è troppo tardi sì si può evitare di cascarci in qualche modo di prevenire allora diciamo che chi sviluppa un tratto di dipendenza ha un tratto dipendente a livello di personalità ok quindi è una struttura di personalità che andrebbe lavorata a livello psicoterapeutico in tanti modi quello che si può cercare di fare è rendersi conto nel senso che effettuare masturbazione una volta al giorno per esempio ha degli effetti benefici e positivi ma quando io mi rendo conto che lo faccio 4-5 volte al giorno non esco con gli amici perché mi voglio masturbare non vedo la mia fidanzata non ho più una vita e l'unico mio obiettivo ovunque io sia è guardare un film porno mi devo cominciare a rendere conto che sto superando quel livello di sanità e quindi assolutamente intervenire non deve essere non deve essere facile però appunto secondo me ci si può rendere conto abbastanza presto di quando sta diventando una una dipendenza e parlando il problema dimmi chiaramente il fatto che mentre lo faccio nella fase iniziale cioè nel senso se sono 4 volte che oggi mi sono masturbato e lo faccio io provo piacere in quel momento quindi pensare di intervenire andare in terapia togliendomi quel piacere si 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 è qualcosa che non voglio fare perché mi dico ma io sto tanto bene così perché dovrei andare a intervenire poi è chiaro che invece quando emerge il disagio ho voglia di intervenire è un po' come in realtà tutte poi le dipendenze c'è una un fattore di piacere nel mezzo altrimenti giustamente non lo faresti e non non ne diverresti dipendente dicevo appunto che invece per parlare totalmente all'opposto quindi se esiste la dipendenza la pornografia esistono donne che a causa tra virgolette del sex work finiscono a dover parlare con una psicologa con una sessuologa per diversi temi ti è mai capitato di avere una sex worker in terapia? allora ho avuto persone che hanno diciamo scelto di fare questo lavoro come secondo lavoro ok quindi non come condizione principale e come scelta quindi non qualcuno che si è trovato costretto chiaramente e sì mi è capitato e bisogna lavorarci con attenzione perché intanto si può strutturare una dipendenza all'inverso cioè nel senso io provo talmente piacere a mostrare il mio corpo a mostrare determinate immagini in un certo modo che non riesco a smettere quindi pur essendo pagata perché è un lavoro però provo quel piacere di dipendenza e quindi è una dipendenza opposta a chi vive da dipendenza da porno da fruitore ma diventa comunque una dipendenza perché ho il piacere del vayerismo quindi deve essere vista ok ok ma quella è una cosa in cui effettivamente io mi ritrovo abbastanza cioè secondo me il farmi vedere mi crea anche piacere altrimenti non credo che in generale lo farebbero in tanti esatto però è una cosa che proprio perché in tanti secondo me provano questo piacere sicuramente c'era una dipendenza collegata ma non ne ero a conoscenza sincera non non ne sapevo niente adesso comincerò ad avere molta paura per me stessa ma va bene no però è qualcosa che si può monitorare ok nel senso se diventa allora la dipendenza è sempre qualcosa a cui io non riesco a fare a meno e che cioè soddisfa veramente un bisogno più profondo molto inconscio ecco quale potrebbe essere collegato a questo il il desiderio profondo da legato alle sex worker ci sono donne che per esempio raccontano che da piccole hanno scoperto mamma e papà che facevano sesso l'hanno spiati l'hanno visti e non è stato elaborato nel senso che non l'hanno comunicato ai genitori o i genitori hanno avuto in quel momento una reazione istintiva di vergogna anche aggressiva e quindi il bambino la bambina elabora da sola o da solo quello che ha visto e avendo provato è vero diciamo vergogna ma anche piacere nel vedere i genitori che fanno qualcosa di proibito esatto diventa poi piacevole di nuovo ristare nel proibito e nel rivivere quello che hanno visto mamma e papà mentre io li guardavo ok e quindi voglio riprodurre questa sensazione qui ok continui a sconvolgermi stai facendo il lavoro all'opposto invece che curarmi mi stai creando nuove nuove domande esatto è questo il mio lavoro allora stai facendo un ottimo lavoro ottimissimo proprio a proposito di questo qual è il mito che sfati più spesso in terapia sia dalla parte delle sex worker che dalla parte di un utente medio allora diciamo che tendenzialmente io cerco di lavorare con le persone spiegando che tutto quello che riguarda la sessualità non è patologico che cosa significa? cioè nel senso che ci sono persone che vivono le proprie fantasie i propri desideri i propri bisogni come qualcosa di malato invece tutto quello che riguarda la sessualità se espresso in un certo modo con rispetto e con libertà chiaramente mia e delle persone con cui ho a che fare non è patologico è sano perché fa parte della nostra identità e quindi lavorare su pregiudizi tabù regole molto strette qualcosa che ci fa pensare che siamo sbagliati va contrario proprio al piacere della sessualità e quindi lavorare sul sentirsi bene in quello che desideriamo e quello che la nostra mente crea a livello di fantasie sessuali e di immaginario è quello che vogliamo portare anche nell'interazione con l'altro permette alla persona di vivere la sessualità in maniera soddisfacente che è l'obiettivo insomma generale della terapia esatto giustamente non verrebbero quindi da parte dell'utente questo per quanto riguarda invece le sex worker c'è un mito che sfati più comunemente di altri a parte il voyeurismo che piccolo trauma però anche con loro si lavora sul sentirsi sbagliate proprio perché c'è questo preconcetto per cui fare questo lavoro in realtà è vendere il proprio corpo perdere la dignità perché c'è sempre questo concetto che la sex worker perde la sua dignità bisogna invece lavorare molto sul non farle sentire sbagliate ma farle sentire che stanno facendo quello che desiderano se è una scelta e quindi far pace un po' con le parti interne con cui litigano perché è un lavoro comunque che richiede un equilibrio personale importante e quindi riuscire a creare questo equilibrio tra faccio quello che mi piace e non sono sbagliata perché sto facendo quello che mi piace se penso appunto a un trend soprattutto ultimamente penso al sempre più crescente la sempre più crescente quantità di sex worker è sempre allo scendere del numero dell'età collegato a queste sempre parlando di sex worker che lo fanno per scelta quindi si parla sempre di persone che scelgono da sé di fare questo lavoro cosa pensi di questo tipo di trend? Allora questo si sposa credo più con la modalità delle nuove generazioni un po' cioè col fatto che comunque è un lavoro facile cioè l'idea generale è un lavoro molto facile da fare fondamentalmente un corpo ce l'ho lo metto all'esibizione degli altri lo faccio vedere non faccio fatica non mi crea impegno guadagno anche molto bene è un po' questa associazione che viene fatta immediato quindi in realtà più sono giovane più ho voglia di guadagnare e meno mi faccio il problema psicologico o mentale dell'effetto che questa cosa possa avere nel tempo e quindi vado diretta nel fare questo lavoro chiaramente non prendo in considerazione gli effetti e non prendo in considerazione a livello psicologico cosa mi può succedere e anche come questo può influenzare nella mia vita cioè nel senso che chiaramente chi fa questo tipo di lavoro entrerà in contatto con dei partner o delle partner che magari non condividono il tipo di lavoro e quindi bisogna appunto entrarci in relazione in modo equilibrato cioè spiegando quello che si fa e come viene vissuto questo lavoro perché poi bisogna appunto fare una differenziazione tra sto lavorando o ci sto mettendo un sentimento ed è una cosa molto difficile da far passare nella relazione di coppia quindi bisogna avere una maturità di un certo livello chi lo fa da giovanissima penso che sia più guidata o da una grande voglia di trasgredire o dalla parte economica qual è il danno più grande che si può fare a livello psicologico per una casualità del genere casualità intesa come caso l'idea che il proprio corpo possa essere usato dagli altri e questa è una cosa che diciamo si crea un limite nella propria libertà di scelta se io penso che il mio corpo possa essere messo davanti a tutti e questo non mi crei delle domande dei problemi o delle difficoltà io sto pensando che gli altri sono liberi di farmi quello che vogliono e quindi piano piano rischio di perdere l'autostima perché se penso che gli altri possano fare tutto quello che vogliono con me o su di me la mia autostima si abbassa perché l'autostima è legata ai confini quindi è legata alla capacità di poter dire sì o no a determinate cose sì 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 sono estremamente d'accordo conosco colleghe che purtroppo sono arrivate a qualunque tipo poi di sabotaggio di autosabotaggio per questo quindi qualunque cosa andava bene perché tanto non erano più loro a scegliere in realtà grazie anche a un percorso di psicoterapia sono riuscite a riacquistare tutte loro stesse in toto se si pensa alla sessualità in generale internet è una delle prime cose che ci viene in mente come ha cambiato dagli albori il rapporto che si ha con la sessualità all'internet allora l'ha resa sicuramente molto più fruibile quindi in realtà è molto più facile se pensiamo se penso un po' diciamo alla mia generazione o comunque a chi sta un po' prima della mia generazione quello che si faceva si andava a cercare un po' il fumetto al giornalaio o il giornalino porno del genitore nascosto quindi c'era un po' questa ricerca un po' più specifica mirata anche più nascosta la mia generazione non l'ha vissuta questa cosa infatti la trovo sempre un po' interessante immagino e creava anche più desiderio perché comunque è qualcosa di nascosto da fare assolutamente senza che gli altri ti vedano mentre il fatto che ci sia internet ha fatto sì che facilmente io posso andare a cercare o informazioni o immagini o foto e questo ha facilizzato e velocizzato anche l'utilizzo di alcuni mezzi e questo è andato un po' all'edere secondo me sul desiderio cioè nel senso che il problema è che il desiderio vive nell'assenza non nella presenza quindi se io ho qualcosa che fruisco facilmente che prendo facilmente non sento il desiderio sento la soddisfazione del bisogno che è il bisogno più una cosa immediata è qualcosa che devo andare a prendere in quel momento e soddisfare mentre il desiderio è qualcosa che può crescere nel tempo e può non essere soddisfatto immediatamente quindi diciamo che internet ha soddisfatto più il bisogno ma ridotto il desiderio ok che è tremendo se ci pensiamo ancora più tremendo in realtà è stato il periodo della pandemia che ha sconvolto in generale la vita quotidiana di tutti in tutto il mondo più o meno allo stesso modo e dall'attività più semplice quindi tipo andare a fare la spesa è cambiata totalmente ma anche per esempio l'escorting ho trovato questa cosa che ho trovato estremamente divertente ma quando poi ci pensi metti un po' le mani avanti ovvero che mettendo a confronto su google threads la ricerca della parola chiave escort con parrucchieri ristoranti emerge che il termine più cercato dei tre quindi tra escort parrucchieri e ristoranti fra il primo gennaio 2021 e il 31 marzo del 2021 è stato proprio escort quindi più di un parrucchiere che è una cosa di cui oggettivamente bisogno e il ristorante escort era la parola più cercata su google threads con costanza frequente quindi con frequente costanza vabbè ok avete capito insomma perché l'escort durante la pandemia allora diciamo che una spiegazione psicologica molto semplice è che stando a casa insieme ed essendo costretti a stare a casa insieme io non ti desidero più come prima ok torniamo al desiderio parlando proprio di coppie addirittura esatto la stai buttando proprio ok la butterei semplice semplice hai sperato una bomba sì perché io sto a contatto con il mio partner o la mia partner tutto il giorno forzatamente e quindi non abbiamo più quegli elementi di individualità dove prima ognuno andava al lavoro poi ci rincontravamo la sera durante il giorno non ci siamo visti e quindi magari ho potuto fantasticare su quello che avrei voluto fare con te invece stando forzatamente a casa io ti ho lì a disposizione e quindi il mio desiderio non cresce non si sviluppa le mie fantasie sessuali non crescono quindi cosa faccio vado a cercarmi qualcosa che non è facilmente raggiungibile e che posso desiderare perché comunque è qualcosa anche che nell'immaginario è per pochi le escort eh sì perché devo comunque pagarle in un certo modo devo andarci a cena ho comunque tutto un processo di anche corteggiamento se così possiamo definirlo ho una donna davanti a me che comunque si è curata si è vestita in un certo modo quindi ha stimolato il mio desiderio facendomi sentire desiderabile perché si è sistemata per me e quindi ho sviluppato più desiderio e quindi comincio a cercare come posso contattarla come posso incontrarla e quindi essendo poi a contatto con internet in pandemia anche forzatamente quello era un buon modo per poter stimolare il desiderio e immaginare di fare cose proibite cioè torniamo un po' alla ricerca della trasgressione che comunque di cui comunque noi abbiamo bisogno cioè quando una cosa diventa non è più trasgressiva perde l'interesse e quindi abbiamo bisogno di regole ma quelle erano regole estremamente forzate a cui noi non potevamo far altro che sottostare e quindi abbiamo trovato degli escamotage per trasgredire lo stesso che che roba mi stai devastando ma va bene così forse forse insieme appunto alla pandemia questa ricerca probabilmente di trasgressione ha portato all'esplosione di tutte quelle che sono le piattaforme per creator per adulti non solo quindi quelle che normalmente sono gratuite ma anche quelle a pagamento cosa è successo? perché? è successo che io voglio assolutamente raggiungere il mio scopo quindi provare piacere fondamentalmente come faccio? lo faccio nel modo più veloce nel modo più immediato e quindi vado sui siti a pagamento perché sul sito a pagamento? intanto perché stimola maggiormente la dipendenza e quindi torniamo un po' al concetto di prima qualcosa a cui non riesco proprio a fare a meno e poi perché nel mio immaginario c'è l'idea che siccome io lo pago solo io me lo posso permettere e quindi di nuovo sono unico o unica nella ricerca di questa cosa o nella possibilità di avere questa cosa in realtà non è non è stato così è stato dimostrato che non è stato così però ha soddisfatto sicuramente tanti bisogni perché di nuovo c'è qualcosa che posso vedere che posso sentire che posso una persona anche con cui posso interagire in un qualche modo che è a mia disposizione quindi non devo faticare per ottenere qualcosa e quindi di nuovo andiamo in una direzione in cui c'è meno impegno e è tutto molto più facile è tutto facilmente raggiungibile quindi di conseguenza cioè si pensa che questa cosa sia buona perché è ok ce l'ho a disposizione ma in realtà va sempre più a limitare la nostra capacità di inventarci di desiderare di sperimentare dal vivo esatto pensavo fossi molto più collegato al fatto in realtà di del fatto che appunto durante la pandemia tu parli spesso di coppia pensavo fossi più collegato al fatto che durante la pandemia una persona sentendosi più sola cerca conforto magari in qualcosa di più vicino quindi anche la vicina di casa oggi si apre o di fans o qualunque piattaforma per adulti quindi immaginavo che fosse più per una questione di ricercare qualcosa di più vicino di più ottenibile in realtà questa cosa spaventa il fatto che la mia vicina di casa o la maestra di scuola abbia un profilo allifant può spaventare molto il genere maschile perché si sente minacciato da cosa? si sente minacciato dal fatto che il femminile o comunque la donna di per sé che sceglie di fare questa attività abbia questa possibilità di comando tra virgolette di potere io ti offro il mio corpo ti sto dando questa possibilità ma sono io che decido cosa ti offro quando te lo offro a che prezzo e quindi questo crea una sensazione di sottomissione rispetto al potere dell'altro però poi non ci dobbiamo dimenticare che comunque il potere nella sessualità c'entra sempre ok ed è un gioco è un gioco di potere la sessualità esatto è un gioco che secondo me vale anche la pena di essere raccato in diversi ambiti in diversi casi una delle componenti più presenti sul mio profilo anche cioè in realtà nel mio profilo non tanto i miei fan sono abbastanza bravi ma purtroppo quelli che non sono i miei fan posso chiamarli hater cioè chi ancora non mi conosce gli altri sono hater cosa spinge psicologicamente una persona a odiare così tanto una sex worker quindi c'entra anche il fatto di questo tipo di maschilismo possiamo dire si c'entra un discorso di potere perché io ho davanti a me una persona libera che sceglie di fare questo lavoro che ha una possibilità di decidere appunto rispetto a determinate cose e nessuno di noi vuole essere socialmente dominato ok cioè inconsciamente psicologicamente ha voglia che lo vogliamo ma nessuno lo ammette ok ok però nella società e quindi in quello che si mostra no soprattutto poi nei commenti social magari è più questa esigenza di dire sono io che comando non sei tu che hai potere e di conseguenza l'odio che si che si esprime è più di questo genere infatti alcune ricerche dimostrano che gli haters si muovono maggiormente verso quelle donne che sentono più dominanti ok che sentono più di potere perché hanno paura di essere schiacciati tu hai degli haters uh tantissimi tantissimi haters su che fronte ti attaccano tra virgolette e come come la gestisci come la vivi allora io vengo attaccata principalmente a livello religioso oh che mamma mia che vaso di Pandora stiamo scoperchiando il lato religioso sì tipo beh per esempio sul video del sessanale si è si sono movimentati in tantissimi appunto dicendomi che andavo contro Dio andavo contro qualcosa di umanamente socialmente accettabile quindi cioè proprio contro natura a livelli sì bibbia esatto la bibbia non dice questo esatto esatto quindi c'è stato proprio ci sono state varie persone che a livello religioso appunto mi hanno indirizzata a ritrovare la mia strada ah beh certo sì 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 sicuramente quindi sì più questo e poi ci sono comunque degli uomini che utilizzano un po' di maschilismo da questo punto di vista sempre per il discorso del potere e di non accettare che una donna possa parlare in maniera libera aperta di sessualità anche se a livello informativo però comunque fa paura può far paura certo e tu come la vivi? eh inizialmente è stato molto difficile nella prima fase di attività ho faticato molto e in alcuni momenti ho anche pensato di chiudere i commenti o di smettere di fare certi tipi di informazioni per fortuna per fortuna l'abbiamo ancora qui ancora regge volta no poi in realtà ho visto che mantenendo comunque un certo tipo di stile di lavoro mantenendo un certo livello di informazione sono state più le persone che ne hanno trovato giuvamento che quelli che hanno appunto avuto modo di criticare esatto e quindi mi hanno dato poi la spinta a continuare adesso io ignoro o rimetto al loro posto tifo come li rimetti al loro posto? commentando rispondendo a dei commenti appunto spiegando che c'è rispetto che comunque io sto facendo un lavoro quindi c'è una professionalità che va rispettata e che il fatto che io sia una donna non consente loro di avere modalità sessiste o maschiliste e che se ci vogliamo confrontare io sono a disposizione meraviglioso bellissimo cioè ti metti in prima linea su tutti i fronti è meraviglioso io ti ringrazio ti ringrazio un sacco ringrazio anche Nablu Podcast per averci lasciato questo spazio vi invito inoltre a iscrivervi su tutte le piattaforme sulla quale ci state sentendo vedendo quindi youtube o spotify e noi ci vediamo con la prossima puntata e vi diamo un bacio ciao 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 ciao